Ciao a tutti, ciao a tutti, vediamo in questo video, invia un messaggio telepatico a chiunque attira e manifesta più dei tuoi obiettivi e dei tuoi sogni con la legge di attrazione Quello che devi fare è metterti in una posizione comoda, con le braccia rilassate, le spalle rilassate la schiena è retta ma non tesa e mentre sei in una posizione comoda, con le braccia rilassate le spalle rilassate, la schiena è retta ma non tesa puoi portare l'attenzione sul tuo respiro sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni e via via che l'aria entra e esce dai tuoi polmoni non so se ti stai rendendo conto che il tuo respiro sta diventando calmo e regolare come calmo e regolare è il respiro del mare come calmo e regolare è il respiro dell'universo e via via che tutto questo accade lascia che un sogno un tuo desiderio si manifesti dentro di te qualcosa che sia veramente buono e giusto per te qualcosa che vuoi realizzare osserva esattamente quello che vuoi realizzare osserva esattamente quello che vuoi ottenere e mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respiri lascia che tutto questo accada lascia che tutto questo si manifesti questo tuo sogno riempie la tua mente e adesso mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respiri puoi mandare un messaggio telepatico all'universo o a chiunque possa in un'interazione positiva con te far sì che il tuo sogno si realizzi che diventi carne della tua carne sangue del tuo sangue pensiero dei tuoi pensieri che si manifesti nella tua realtà di questo mondo materiale delle forme e allora formula un pensiero collegato al tuo sogno un pensiero formato da tre quattro parole non di più invia questo pensiero all'universo o a chiunque possa agire in un'interdipendenza positiva alla realizzazione del tuo sogno questo pensiero è caricato dell'emozione del tuo sogno questo pensiero è caricato dall'energia delle forze vive questo pensiero è caricato dalla tua forza interiore libera da ogni attaccamento questo pensiero questo pensiero e l'emozione connessa si dirigono a qualunque persona interagendo positivamente con te possa attrarre nella tua vita il tuo sogno e lasciare che questo sogno si materializzi diventa realtà ora continua ad ascoltare il suono della mia voce continua a respirare e non so se ti stai rendendo conto che mentre respiri acquisisci sempre di più dentro di te la certezza che tutto questo si realizza che tutto questo diventa realtà che tutto questo diventa certezza e adesso ti chiedo di fare tre respiri profondi e al termine di questi tre respiri profondi muovere le braccia le mani le gambe e finalmente aprire dolcemente gli occhi con la consapevolezza che il tuo sogno sarà tratto per legge d'attrazione nella tua vita e si manifesta bene bene e adesso metti un like condividi questo video con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi su instagram massimo tramasco ufficiale su tiktok su tutti i miei canali youtube e ti ricordo che sul canale se vuoi puoi fare una donazione basta che vai nell'opposito tastino e clicchi sul fare una donazione anche solo di un caffè ben accetta e puoi anche abbonarti al canale abbonarsi è facile basta andare nella home page tastino abbonati centra se iscriviti e seleziona l'abbonamento che ti preferisci per questo video è tutto a presto